Provo a migliorare la Salernitana, Ochoa, non lo cambio con Terracciano, passiamo a Bologna, mi prendo Beukema che mi sta piacendo molto al posto di Loato, Romagnoli al posto di Gionber, centro-sinistra abbiamo Pirola e lo cambio con Bastoni, molto bene, esterno-destro e Buei Mazzocchi, no mi tengo Mazzocchi. Roma, Cristante al posto di Coulibaly e non posso prendere Luis Alberto, troppo offensivo, mi prendo Gendosi, sì, quello è il ruolo, Gendosi al posto di Maggiore, Doig al posto di Bradaric, Buonaventura trequartista al posto di Castanos, Candreva, Gudmundson al posto di Candreva, e punta Romelu Lukaku.